Guardate, ho one-shotto la witch, eh? Non l'ho one-shotata, non è funzionato, bitch! Sì, vedete che sono i miei mastermind, siamo qui su Left 4 Dead con... No, rispondo, no, ciao ragazzi! Ragazzi, in questi giorni, vi giuro, non mi ricordavo neanche io il mio... La mia intro, cioè non è che non me la ricordavo, è che io pensavo, beh, quando inizio il video io dico questa intro, ma non riuscivo proprio a farla, perché questa intro mi viene spontanea quando intomincio il video. È un po' complicato. Ti accuro, eh? Non c'è l'hai, tipo... non c'è un oggetto corpo a corpo che possiamo usare per moltiplicare pistola? Oh no! Non posso farvi! Bacca, la moltipliciamo più avanti. Oh raga, io preferisco il fucile a questa qui, ti giuro. Passiamo. No, io ho preso quella di col silenzatore. Cioè, mi piace tantissimo. Dov'è quella di col silenzatore? Ah, solo tu ce l'hai... No, prima c'è! Eh, te l'ho futtuta io. Ah, fuck, vabbè. Se no stai qui, io devo. Se vuoi te la do. No, no, andiamo... io vado con il fucile a stavolta. Buh! No, perché... Ragazzi, è davvero una figata questa parte della mappa, perché non c'è niente sul ponte, però... insomma, niente... niente... almeno è qualcosa. Ma ragazzi, sì, nei commenti ci avete scritto che dobbiamo essere... cioè, dobbiamo diminuire il lag nel gioco. Verrà fatto, ma penso nelle ultime due puntate. Guardate, one-shot la witch, eh? No, l'ho one-shotata! Non ha funzionato, bitch! Però mi ha preso tu... oh, io sto morendo, grazie. Sì, Naruto fa tutto. Ho ucciso lo smoker, ho ucciso la witch, ho ucciso... Oh, che ucciso è la mia formazione. Ho ucciso Andre che sei su addosso opposto. Sei pazzesco, come sei ancora? Io, se questa prima dovrei mandare la testa bar. Wow, wow, sneaky, sneaky. Yeah! Eeeh, ma cos'è il tono? Te, te? Ma che, ma che, ma che nabbo? Cioè, come è che ho fatto? Queste botte! Queste botte! Oh, ma è vero, parli tantissimo molto personaggio Dove ho detto? Dice sempre Questo quello... Però aspetta, ready? Che dì? Oh, facciamo, ready, ready, ready Eh, l'ho già fatto Ah, fuori l'ho fatto Oh, ragazzi, vengo subito, un attimo, blocco il video Ok, ragazzi, rieccoci Allora, scusate, c'è stato un problema Ma come al solito, sempre Comunque Non riesco a saltare Oh, guardate, mister bombolino, vai mister bombolino Attento Passiamo per quest'altra parte C'era un charger davanti Oh, pure una spinta, c'è Prendi M16 Oh, io pio tutto qua Allora, ragazzi, a me piace tantissimo l'M16 Ma l'arma che ti ho di solito è anche questa Quindi, oggi prenderò questa Quindi, oggi prenderò questa Oh, una da pistola Si è fugguta lì Vabbè Oh, c'è un medikit Sì Non posso prendere l'adrenalina Ok, l'ho presa Mi sono pure le pillole, sono... Poi c'è un kit medico, si è un colore Va, siamo tutti belli curati Oh, c'è un jokey Porco giuda Oh, sempre a me, se non ando con me Porco giuda Ragazzi, questa parte c'è un pezzo che mi piace Ma è molto difficile, quindi proviamo C'è un hunter Hunter, bravo, vai a fare un pull Eh, questo pezzo non mi piace No, c'è uno smother E sono uscito dalla finestra di... le sfogate come al solito E là c'è un macello di 100 Io tirano Molto Perchè è esploso quella cosa? Perchè non serviva la Molotov Evidentemente Eh, vabbè, c'era un po' più di gente Ho lanciato Perché hanno già dato attacco aereo? I don't know Dai, dai Dai, possiamo passare, dai Allora, questa parte, ragazzi, bisogna fare una cosa... Parkour Bisogna Posso stare prima per di qua, prima per di qua Sì, qua di sotto, bene E... Vabbè Qua ragazzi, siccome vi vogliono bene, mi ci mettono un po' di munizioni, un po' di robe carine Oh cacchio! Che casino! C'è anche un tank C'è un tank Ma dov'è il tank? Munizioni Ma perchè passi così davanti a me? C'è un tank Cerchiamolo piano piano No! 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 Cerchiamolo e fino a stanza da noi, porco giuda Ah! Oh che culo, mi sono salvato No raga Io sono qua sopra e sto bene qui Fatelo cascare! Fatelo cascare! Fatelo cascare! Fatelo cascare! Fatelo cascare! Fatelo cascare! Ah! 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 Sei grittacchio? Ok, guarda in dove sono Sono lo soprapposto Pazzesco Qua ci stanno musizioni comunque Non ho perso il caglio Sono dopo sono davanti e cos'è Cosa mi ha scelto Cosa mi cura? Cosa mi cura Intanto ci stanno due medici, che tu puo Se non ce lo prego, ho scelto prima Smicchi, smicchi Non ci posso passare Ok, sciccati Madonna, fanno le ambulanze Perinani Ho spardo uno zombie a volato tipo Quel paese Ecco qua bisogna fare parkour Guarda dobbiamo passare su queste travi Oh bello! Bello il caglio Qua gli zombie ti spingono Muori Oppure se c'è qualcuno intelligente Caspi Sto bene un po' di estate che fanno caldo Ragazzi vi giuro fa troppo Mi sto lasciato Sto là bag diagrammato Mi stai allaggando Mi sta laggando Sto là sla Sto là Sto è scomparso Ok Ma c'è rischia Deil partido Dico E' difficile se tu non c'è mai di me si si, credono di server, ho creduto in server no, come si chiama, internet, com'è chi si chiama card antarne, scusate ragazzi e che proprio è un gioco che è impronunciabile pronuncio le fd e country strike, la pala a fanfare e crax leur sigma ma non mi ricorderò mai ah beh insomma quel gioco l'ha fatto di cubetti mezzo cubetti, mezzo cubetti mezzo cubetti giochi? ah per fortuna non mi ha preso in meno adesso boomer si vede che ti voleva bene, comunque il boomer l'ho fatto esplodere io ma l'ho dato la kill a nick grazie nick oh guarda guarda attento eh attento qua qua c'è lo scivolo stai attento che ne vedo? mi butto eh ma attento non beccarci le buche wow tipo io ce l'ho beccata e salo ma nooo mi sono rotto il coso lei invece sono proprio morto seminati tu non avevi un defibrillatore Gesù Cristo ma non c'è più vero eh giusto l'altra volta che ha piaciuto la moldov casomai ragazzi facciamo la spettatoria ma hanno avuto paura e mi fotte il tuo medico sono in giro con loro parla ma che non è vero vengo subito no no adrenalina hai gaccio dell'adrenalina no vado bene ci sono comunque penso che dopo che è attivato questo qui e vai avanti riesci a salvarmi più presto possibile è molto lento amore non è che posso eserciare tramite un bo o calmatevi poco giù eh non si può andare tipo in prima persona di chi stai facendo l'ospettatore come eh tasto destro sinistro è vero ok oppure spazio usa spazio ah si spazio spazio eh perchè mi ricordavo non mi ricordavo per niente cioè ho sempre aspettato se vedete che ricarico ogni due secondi cioè proprio è il mio istinto ricarico sempre pure lo ricarico quando sparo pure due colpi e poi c'è chi non lo fa si può anderti che adesso ah si 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 può anderti credere che quando gioca a call of beauty non ricarica mai e muore e fallisce muore sempre ah quella tontica quanti zombie però aspetta quando c'è la possibilità quando c'è la possibilità di passare passa a stop al culo alla vita come dici tu vai addosso corri corri lascia li li devi salvare me aiuto c'è pure un hunter oh asciuti no dove vai ecco ecco lì lì oh arma seconda preferita coppola no qui sopra non c'è niente sta una pista eh il suo bene lo snortling come si chiama ho detto cosa d'aver detto una chiamata lo snortling ecco no non è lì devi andare dall'altra parte ecco sinistra lì scendi dalle scale di sinistra scendi dalle scale va tutto avanti e c'è una cosa beh sì c'è pure una freccia oh e aprile apro le porte random così per esempio no no io mi ricordo me si richiudono in faccia le porte o ma è il certo bellissima questa cosa per te io quando lo scuola non voglio essere l'unica che è stato morto sembra una località horror mio dio una donna si mi ricordo adesso venerdì 13 in cubo a Manhattan eh tipo le prime due vittime la fatta su o loro yacht tipo non è che il tuo non ci vediamo un cazzo perché non c'avevo la porta al cazzo città io devo andare qui no così devo vedere chiedo così fa un sacco no ah mi si arriva direttamente la sefos no sopra le scale ecco no impossibile non voglio venire un po' di rio che è ma vabbè dai mi sta la gamba eh le cordate 2.exe ha smesso di funzionare benissimo si mi si è chiuso pure a me dico perchè a me si è chiuso non so vabbè è cresciato anche a Naruto spero non ti è cresciato tutti dai possiamo vabbè avete capito siamo arrivati possiamo finire il video tanto tu sei arrivato alla sefos se abbiamo visto no ho aperto la porta torun 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 ha smesso di funzionare ok ragazzi andate non bloccati no problemi tecnici comunque cioè è sempre un problema tecnico tutte le volte che registriamo la star dead comunque siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati e devo stare da è tutto il prossimo video ciao ciao ciao